Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo Lightburn. Oggi una piccola sorpresa per tutti voi che spero che vi sia gradita. Come vi avevo annunciato nell'ultimo video che ho messo nel canale c'era una piccola sorpresa. La sorpresa è una cosa abbastanza a mio avviso carina e che potrebbe aiutare tutti quanti per andare a vedere gli argomenti che ho trattato nei video da quando ho aperto il canale ad oggi quindi sono poco più di due anni. Allora in due anni ho fatto parecchi video infatti se noi andiamo a vedere il canale ecco vediamo che di video ce ne sono veramente tanti e sono ormai oltre 150 video. Ecco li vedete scorrere in questo momento tra l'altro ci sono anche più pagine e così via. E diciamo che all'inizio non avevo pensato di organizzare perché francamente non pensavo che questo canale crescesse in questa misura e francamente ne sono un po' orgoglioso di questo ma grazie a voi non grazie a me grazie a voi che mi seguite. Ecco dicevo ci sono tantissimi tantissimi video che parlano praticamente di quasi tutto Lightburn. Penso che ormai ho toccato un po' tutto riguardo a Lightburn. E il problema qual è? Il problema che incontro io stesso andare a cercare quei video dove ho parlato di un certo argomento di una certa di un certo comando di certe situazioni che si possono venire a creare quando stiamo facendo un progetto e così via. Quali strumenti utilizzare quali materiali utilizzare e con oltre 150 video riuscire a tenere memoria di tutto anche se li ho fatti io e quindi sono io il padre di questi video. cioè mi è difficile allora ho pensato di creare una cosa. Adesso l'andiamo a vedere insieme. Spesso sul canale di Lightburn ma anche sul gruppo facebook di noi cosiamo Lightburn io e Roberto Cocchia che saluto come al solito è un prezioso collaboratore e mettiamo dei video che ho fatto per andare a far capire a chi magari fa delle domande eccetera eccetera per andare a far capire come farlo seguendo un tutorial che ho messo sul canale YouTube. Lo stesso fa Roberto anche con i suoi articoli che sono veramente molto interessanti per cui vi dico di andarli a seguire. Questa ricerca di questi video è complicata anche per Roberto ma anche per me. Figuriamoci per voi che c'è gente che comincia adesso a entrare nel mondo di Lightburn, chi comincia adesso a seguire il mio canale e il mio gruppo facebook. Per cui andare a cercare il video giusto in questa marea di video è veramente molto complicato. Ho pensato di fare un piccolo strumento di ricerca. E' vero che se un utente va sul canale solamente però sul sito di internet da pc perché con il cellulare non funziona, va sulla lente e va a cercare un dato argomento ci sta che lo trovi se questa chiave di ricerca che il nostro amico va a cercare la parola che cerca è all'interno della descrizione del video altrimenti non la trova. E quindi è abbastanza difficoltoso riuscire a trovare tutto. E quindi cosa ha fatto il buon Italo? Ha cercato di agevolarvi in questa ricerca ma anche agevolarmi, agevolare anche Roberto perché francamente non ci si raccapezzava più. Poi all'inizio i titoli erano un po' scriptici, le descrizioni idem e quindi era difficile riuscire ad avvenire appunto a quello che volevamo fare. Ho fatto un motore di ricerca, l'ho implementato, ci sono dentro tutti i video dal primo all'ultimo, non scartate un paio perché erano di scarso interesse. Ci sono delle parole chiave che voi potete andare a ricercare. Vi faccio vedere come, è semplicissimo per cui spero che vi aiuti a cercare magari quando ho cercato un'istruzione, un comando, una piccola lavorazione. Vi faccio vedere dove si trova il motore di ricerca. Allora per andare a vedere come funziona questo motore di ricerca basta andare su qualsiasi browser di qualsiasi casa, quindi con Chrome di Google, con Edge di Microsoft, ho provato che con Opera funziona più o meno con tutti. Quindi andiamo su una scheda del nostro browser, andiamo a mettere nella barra degli indirizzi il seguito indirizzo che comunque vi lascio nella descrizione del video che è bit.ly slash motore ricerca. Diamo invio e vedrete che tra poco compare il la pagina del motore di ricerca. Vedete che c'è il simbolo del e quindi il logo di noi che usiamo Lightbird e poi c'è scritto benvenuto al nostro motore di ricerca video inserisci uno o più parole chiave per trovare video pertinenti. Cosa vuol dire? Che se io in questa casella di testo, sapete che lo sto a spiegare, lo capite tranquillamente, vado a mettere una o più parole chiave, questo motore di ricerca mi va a cercare tutti i video che trattano di quell'argomento. Facciamo un esempio molto molto semplice. Voglio andare a vedere i video in cui Italo ha parlato dei nodi. Quindi scrivo nodi, do cerca e nel giro di pochi secondi vi compare tutta la lista dei vari video dove ho parlato di nodi e vede questi sommari sono i primissimi per cui non ci sono, non c'erano le descrizioni. In questo video vedremo perché abbiamo titolo, descrizione e link al video. Quindi praticamente io posso andare direttamente al video passando dai link e quindi editare i nodi con light bulb. Clicco tasto destro, tasto destro del mouse sul video, apro e mi parte il video dei nodi. C'è sempre la solita pubblicità però è quella che è quello che in questo caso ci abbiamo la pubblicità di non so che a North Face e poi possiamo andare a schippare la pubblicità ma questo lo sapete fare benissimo e partiamo con l'editazione dei nodi di light bulb. Editare i nodi con light bulb. Questo è uno dei primissimi video che ho fatto, è roba di più di due anni fa quindi editare i nodi sui tracciati. Come vedete siamo andati subito al dunque. Oppure non so se possiamo mettere anche un comando per esempio che ne so copia lungo il percorso. Basta scrivere anche copia, vado a fare cerca e mi trovo a vedere copia lungo il percorso oppure stampa, stampa e taglia, stampa e taglia. Se voglio andare a vedere i video con cui ho parlato di stampa e taglia. Che ne so i progetti. Se ci sono dei progetti vado a fare cerca e do invio. Ecco vedete è abbastanza semplice. Ci sono le descrizioni per cui possiamo andare a vedere. Vediamo se voglio andare a rivedere le vecchie versioni. Versioni di light bulb e scrivo versioni. vi raccomando scrivete una parola sola. Magari anche senza la la desidenza finale maschile femminile che li trova anche meglio. Vedete light bulb è la 1.0, la 1.2, la 1.3. Oppure un tema che è carissimo e che vi piace molto sono gli incastri. Guardate in quanti video ho parlato di incastri. Cerca incastri e vedete c'è ridimensionale incastri 1.0.3, due nuovi comandi per gli incastri, borsa mercoledì numero 3. Perché c'è ci sono tutti video in cui io vado a parlare di quell' argomento. Qui posso uscire oppure posso pulire e cercare un altro un altro comando un altro vettore eccetera eccetera immagini mi vengono in mente poi a voi vi verrà qualcosa di in mente anche di più. Vedete utilizzo l'app con immagini scaricate da web perché le immagini trasformate in tracciato fanno questo e quindi la tutta la descrizione e di fianco sempre il solito link al video che vi si apre. Allora è all'inizio lo sto ancora completando di implementare è già a non un buono a un ottimo punto devo però riuscire a ottimizzarlo e ho bisogno anche del vostro aiuto quindi se utilizzate questo motore di ricerca e non trovate quello che cercate nonostante magari io ne abbia parlato in un video fatemelo sapere mettete un commento nel video in questo video mettetemi mandatemi un messaggio mandatemi un email fate quello che volete mettetemi a conoscenza che c'è qualcosa che non trovate io cercherò di sistemare perché nel database posso intervenire per andarvi ad aiutare a trovare gli argomenti basta non voglio esagerare io mi auguro che questo vi sia di aiuto senza andare a cercare eccetera eccetera ci mettete tre secondi aprite questo motore di ricerca e mettete una parola vi vengono tutte le cose scegliete uno o più video e mi raccomando vi è piaciuto questo strumento like vi è piaciuto questo video due like vi è piaciuto il come ho trattato la cosa tre like ma iscrivetevi al canale perché tra poco magari questo strumento lo metterò solamente a una determinata fascia di persone e indovinate chi non ve lo dico lo scoprirete solo vivendo ciao a presto e vi saluto e utilizzatelo perché è comodo è comodo anche a me che li conosco a memoria i miei video figuriamoci a chi ne ha visti solamente qualcuno iscrivetevi e usatelo ciao a tutti